Non disturba proprio nessuno il fatto che la cittadina americana Jennifer Morgan abbia solamente richiesto la cittadinanza tedesca. La statunitense otterrà il posto di segretario di Stato agli esteri a Berlino, parliamo dell'attuale capo di Greenpeace America, a riferirlo diverse testate tedesche martedì. Ringrazio di cuore Roberto e Elena per il sostegno. Come sempre iscrizione, mi piace e condivisione. Secondo i piani del ministro degli esteri dei Verdi, Annalena Baerbock, la Morgan sarà presto una garante della tutela climatica di altissimo profilo internazionale, poi le verrà data la poltrona di segretario agli esteri. Il passaggio avverrà solo dopo l'acquisizione della cittadinanza. Sul sito di Greenpeace ci sono solo poche righe biografiche della signora. Jennifer Morgan ha ricoperto incarichi apicali in diverse organizzazioni. Ad aprile 2016 è arrivata ad essere capo di Greenpeace International. In precedenza era direttrice a livello globale del programma climatico del World Resources Institute. L'attivista ecologista ha guidato per anni svariate grandi organizzazioni. Tra queste spiccano il Worldwide Fund for Nature, il Climate Action Network e l'E3G. Un piccolo lavoro di inchiesta ha rivelato che nella lista compaiono anche varie organizzazioni della rete Soros. World Resources Institute, secondo il sito ufficiale delle fondazioni Open Society tra il 2016 e il 2019, questa ha ricevuto finanziamenti per oltre un milione di dollari. Climate Action Network, operante in 130 nazioni con 1.300 ONG collegate, sempre secondo i dati della società aperta, solo nel 2020 ha ricevuto 150 mila dollari per promuovere la giustizia climatica. Anche E3G si occupa di ambientalismo. Nel 2020 ha incassato 200 mila dollari sempre dallo speculatore di origini ungheresi. Tutto questo dimostra la sicurezza dell'elite, di chi ha reti di potere internazionali. Neanche servono più spiegazioni. Chiarissime le parole su Facebook dell'ex politico verde Maggiaro Schifferondrasch sulla notizia. In Germania hanno candidato come segretario di Stato e agli esteri una cittadina statunitense. Una persona estranea alla comunità politica tedesca dovrebbe rappresentare gli interessi della Germania nel mondo. È l'antipasto del meraviglioso nuovo ordine in cui le reti globali divorano gli stati nazioni democratici. Viva l'Italia eiamo ad Orsang.